Inaugurato il primo lotto dei lavori di ricolificazione del quartiere di Valle Noncello a Pordenone. Presenti il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore all'urbanistica Cristina Mirante, che si sono detti soddisfatti per lo stato di avanzamento delle opere e per le migliorie apportate a questo quartiere negli ultimi mesi. Accanto ai grandi interventi di sistema, come quelli delle fognature, nelle scuole, negli edifici pubblici, ci stiamo occupando progressivamente anche dei quartieri attraverso opere manutentive che verranno sviluppate progressivamente nell'arco di questi cinque anni di legislatura. Valle Noncello oggi, ma stiamo lavorando anche su Rora, interverremo massicciamente che su Borgomedona. L'ideale è quello di agire un po' alla volta senza fare opere troppo impattanti, ma progressivamente dare risposte richieste direttamente dai cittadini. L'amministrazione comunale ha espressamente scelto di investire nel recupero dei marciapiedi ad uso sia pedonale che ciclopedonale, perché ormai obsoleti nella tipologia di pavimentazione, ma soprattutto perché pieni di barriere architettoniche che vanno eliminate, a maggior ragione in un quartiere come Valle Noncello, in cui sono presenti infrastrutture pubbliche, scuole, asili e palestre. Si sono conclusi i lavori di recupero dei marciapiedi e della ciclopedonale di Valle Noncello, un primo lotto funzionale, circa 350 mila euro di intervento, che è servito ad eliminare le barriere architettoniche, a ridurre la velocità delle auto in una zona particolarmente delicata, tra la scuola elementare, l'asilo e la chiesa, quindi tre luoghi molto frequentati dalla comunità e che utilizza molto questi marciapiedi che sono ad uso del pedibus, del ciclobus, che è il primo che si è sviluppato all'interno del territorio del comune di Pordenone. Per l'amministrazione comunale, la periferia è stata e sarà costantemente oggetto di interventi importanti. Infatti, oltre alla sistemazione di strade e marciapiedi e alla definizione della segnaletica orizzontale, lavori che saranno sviluppati nel corso dei prossimi cinque anni, il comune si sta adoperando per sistemare anche il tetto della scuola elementare di Valle Loncello dopo gli interventi fatti sulla struttura dell'edificio.